Trasciani, Ferrara, ha trovato il lancio per Kragl, grande combinazione con Perez, ancora Kragl, Marino, Marino, Messina in vantaggio, al minuto 27, tutto bello, tutto di prima, e Marino l'ha messa nel sacco. Dovesse aprire sulla sinistra verso Versienti, parte Kragl, Trasciani, raddoppio del Messina, al minuto 24 della ripresa, la punizione precisa di Kragl per la testa di Trasciani e al Francioni, è la tira a zero, Messina a due.